Buon sangue non mente. Un salto da record per Larissa Iapichino, figlia d'arte di Gianni e Fiona May. L'Azzurrina è stata la protagonista della seconda giornata dei campionati italiani allievi che ha visto come scenario lo stadio Guariglia di Agropoli. La sedicenne toscana, con un formidabile 6,64 nel lungo, realizza il primato nazionale under 18 ed anche under 20, superando all'ultimo tentativo il limite di 6,55 che resisteva dal 1998 fissato da Maria Chiara Baccini. Una distanza, quella fatta segnare dalla figlia di Fiona May, che vale la migliore prestazione mondiale under 20 dell'anno. In questa gara ero veramente tanto contenta di gareggiare, avevo proprio voglia di gareggiare, al di là del risultato. Il mio obiettivo era quello di battere il record, che io chiamo record provinciale perché era il record provinciale, perché comunque Maria Chiara Baccini era della mia stessa provincia. Adesso però non ci accontentiamo, nel senso che ci sono comunque degli appuntamenti importanti, come gli europei di Boras under 20, e lì cerchiamo di fare il nostro meglio, perché comunque sono tutte esperienze, sono tutte molto più grandi di me, quindi niente. L'organizzazione è fantastica, devo dire farvi complimenti, e poi la pedana è bellissima, ma lo porterò sempre nel cuore, perché comunque ho fatto il mio primo 640, il mio primo 650 e il mio primo 660.